Grazie della linea, siamo con il primo ospite di questa giornata, ho il piacere di avere qui con me Luca Noto, responsabile gestioni specializzate di Fideuram Investimenti. Buongiorno e bentrovati. Buongiorno. Allora abbiamo indici azionari americani sui massimi, tassi negativi, qual è la vostra visione del mercato in questo momento, come ci orientiamo? Allora lo scenario macroeconomico in questo momento rimane ancora incerto, negli Stati Uniti il rallentamento che tutti si aspettavano sta arrivando ma con molta lentezza, in Europa il rallentamento forse ancora sta trovando un po' un appiattimento, i mercati finanziari tuttavia già sono in una situazione di alimentazione della fiducia perché le banche centrali facendo un giro a U delle politiche monetarie stanno supportando la fiducia, tuttavia noi pensiamo che ci siano dei fattori di rischio sullo scenario economico e quindi sui mercati finanziari perché le banche centrali non possono salvare completamente lo scenario economico per cui pensiamo che i fattori di rischio o comunque i rischi di downside in questo momento siano molto più importanti, nonostante i mercati siano totalmente a guardare verso l'alto. È chiaro che ci sono due elementi fondamentali, i rischi geopolitici sono chiaramente ridotti, Brexit, Trump, la guerra commerciale e in particolare quindi da questo punto di vista i mercati stanno già incorporando tante notizie positive. C'è una sorta di timore da parte degli investitori perché anche questi indici sui massimi spaventano un po' si cerca insomma il segnale per capire da quale direzione si andrà anche se ci sarà o meno il famoso rally natalizio. Voi che cosa consigliate agli investitori? Io ho l'impressione che il rally natalizio sia questo, il cogetto rally di fine anno lo stiamo sperimentando. Crediamo tuttavia che in funzione dello scenario economico che non è particolarmente florido pensiamo che non ci sia molto valore nei mercati. Le problematiche sono per noi gestori come costruire portafogli soprattutto per il prossimo anno perché bisogna dire quest'anno è andato benissimo, le performance sono ottime su tutte le asset class. Le soluzioni per il prossimo anno non sono probabilmente dedicate alla ricerca del valore perché di valore sia nel bond che nell'azionario ce n'è pochissimo. È importante costruire dei portafogli ben diversificati con fattori di rischio bassi alla ricerca di opportunità piccole ma attenzione a costruire il portafoglio nel suo complesso che sia prudente, che sia attento ai rischi di downside e che non abbia delle particolari esposizioni su mercati che sono poco liquidi o che non hanno via di uscita. Se dovessimo sintetizzare con una parola l'atteggiamento da mantenere lo definiremmo neutrale? Neutrale è una parola che implica passività. Direi che bisogna avere sempre una posizione attenta e positiva per esempio sul carry, sul mondo obbligazionario. Attenzione a buttare tutto quello che è bond perché c'è tanto valore all'interno del mondo obbligazionario anche se il mondo obbligazionario pare non offrire del valore. Quindi con attenzione bisogna avere un po' di carry nel portafoglio ma avere anche una predisposizione a una volatilità più alta e dei rischi più alti da qui in avanti. Bene, grazie Luca Noto e si goda l'evento. A voi la linea in studio. Grazie.